un rimedio? No, io prima di tutto vorrei sapere qual è la motivazione per cui FOA non può essere il presidente della RAI. Se mi si dice che è sovranista, io ricordo sempre che sovranità è una parola che sta nella Costituzione della Repubblica Italiana al primo articolo e per anni è sembrato che si fosse intorto quando si difendevano gli interessi della nazione. Sovranità significa difendere per la prima volta gli interessi degli italiani. Se questo è un reato è allora arrestateci tutti perché noi abbiamo iniziato a farlo.